Viaggiare in sicurezza con Isoradio e la Polizia Stradale, tutte le settimane in diretta dai nostri microfoni. I funzionari della Polizia Stradale informano chi viaggia sulle norme del Codice della Strada, sui comportamenti da tenere quando si è alla guida, sulle sanzioni previste per le violazioni in materia di circolazione stradale. Risponderemo anche alle vostre domande, io ricordo il nostro numero, queste domande potranno essere inviate attraverso un messaggio al 348 103 10 10. Oggi parleremo della campagna di sicurezza stradale sulle due ruote Ania Campus, oltre 1500 studenti coinvolti. Il tour ha preso il via venerdì scorso a Roma, siamo in collegamento con la nostra ospite, il vicequestoraggiunto della Polizia, Eugenia Sepe, funzionario addetto della sezione Polizia Stradale di Napoli. Buongiorno dottoressa Sepe, grazie per essere in diretta con noi. Buongiorno a voi. Allora, ci parli di questo tour dedicato soprattutto ai giovani, evidentemente? Sì, si tratta di un tour che Ania, con la sua Fondazione per la Sicurezza Stradale, ha realizzato e farà tappa in 16 città. Domani si troverà a Napoli, nel piazzale antistante lo stadio San Paolo, precisamente in via Galeota, e saranno protagonisti 100 studenti di un liceo scientifico napoletano, il liceo scientifico Tito Lucrezio Caro, i quali parteciperanno a questa iniziativa che vede coinvolti la Federazione Motociclistica Italiana e la Polizia di Stato. Cosa accadrà in questo campus? Un campus che è creato con un circuito motoristico, quindi i ragazzi riceveranno in un primo tempo una lezione sulla sicurezza stradale e sulla guida sicura. Poi svolgeranno, dopo la parte teorica, una vera e propria prova pratica su questo circuito. Quindi una prova di guida proprio. Esatto, su queste moto, sotto la supervisione di istruttori e piloti professionisti. La cosa innovativa e particolarmente tecnologica che accompagna questa iniziativa è che ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni è equipaggiato con una telecamera che riprende le manovre eseguite quindi dai conducenti. In seguito i ragazzi potranno visionare questi video in cui sono stati i protagonisti per capire se ci sono stati degli errori o delle manovre non corrette e quindi rendersi conto, percepire in diretta quali sono stati gli errori e quali sono stati gli errori. Quindi in tempo reale un istruttore tirerà le orecchie per modo di dire a chi evidentemente ha fatto qualche errore. Esatto, quindi un'iniziativa che ha uno scopo didattico importante però con uno strumento anche con un atteggiamento ludico nei confronti dei ragazzi. Quindi cerchiamo di far capire le regole fondamentali del codice della strada con un approccio amicale e questo è dato anche dalla presenza della Polizia di Stato, della Polizia stradale con il nostro pulman azzurro, la nostra aula didattica interattiva multimediale dove i ragazzi avranno la possibilità di seguire quelli che sono i video sulla sicurezza stradale commentati, spiegati dai nostri colleghi presenti sul posto e avranno quindi la possibilità di rendersi conto, di percepire quelli che sono i comportamenti corretti. Ma un'altra delle cose importanti è anche la rottamazione dei vecchi caschi. Cosa ha pensato Ania in questo momento storico importante per tutelare i conducenti sulle due ruote che vengono considerati dei conducenti, degli utenti deboli della strada? Ha fatto una particolare attenzione sull'abbigliamento e gli accessori necessari per la guida degli scooter, delle motociclette ed in particolare ha sensibilizzato i giovanissimi ad indossare sempre solo caschi omologati per cui la rottamazione del vecchio casco avverrà sul posto per i ragazzi che porteranno con sé dei caschi vecchi non omologati e potranno ricevere un nuovo casco che potranno anche personalizzare. Complimenti la Polizia Stradale e anche Ania evidentemente sempre più vicini anche ai giovani e questo vi fa onore. Grazie dottoressa Sepe per essere stata con noi e ripeto complimenti per le vostre iniziative. Grazie a voi e vi aspettiamo con Ania in tutte le tappe quindi di Ania Campus per la sicurezza stradale domani a Napoli. Bene, grazie. Buon lavoro al vicequestor aggiunto della Polizia dottoressa Eugenia Sepe, funzionario addetto della sezione della Polizia Stradale di Napoli e la ringraziamo naturalmente per essere stata con noi su Rai Isoradio.